ariete il cielo astrale che vi riguarda mostra qualche eccedimento che caratterizza un periodo di maggior pesantezza sia dal punto di vista dei consensi che ricevete sia dal punto di vista fisico anche la sfera amorosa risulta appannata fate una sosta e riflettete sui vostri piani d'azione toro la luna in transito nel segno oggi vi inclina ad ascoltare le emozioni l'umore è alto e vi permette di interagire con gli altri in modo piacevole e affettivo buone notizie e novità in amore accrescono la sensazione di essere al centro di una fase positiva gemelli momento statico che si nutre dei conflitti di sempre e non offre vie di fuga particolari la vostra natura mobile e curiosa resente di una sorta di frustrazione che dovete girare a vostro favore utilizzando le vostre capacità ingegnose per elaborare qualcosa di diverso e stimolante cancro mercurio fa il suo ingresso nel segno e va ad accompagnarsi a sole e venere già presenti formando un accumulo planetario che offre un periodo di fermento attivo speciale e positivo l'accavallarsi di occasioni e progetti fa scaturire nuovi orizzonti ma può rivelarsi anche faticoso leone luna e marte disarmonici fanno di questa giornata un fardello emotivo e impulsivo da tenere sotto controllo disturbati e nervosi oggi non siete obiettivi e in grado di risolvere questioni importanti meglio lasciare che il tempo assesti tutto senza il vostro intervento vergine il quadro astrale di questa giornata è splendido avete le migliori angolazioni per esprimere la vostra sensibilità le emozioni esaltare l'amore e vivere di piene conferme approfittate di un momento fortemente positivo per lanciarvi verso mete ambiziose bilancia i contrasti che arrivano in questo periodo sono parecchi preoccupazioni in ambito lavorativo e sentimentale che appesantiscono pensieri e motivazioni lasciate che la situazione non cambi troppo la vostra capacità di adattamento e di ricerca dell'equilibrio armonico scorpione la luna opposta oggi abbassa l'umore ma non scalfisce una fase molto positiva che vi vuole grintosi e protagonisti instancabili nella elaborazione di nuovi programmi e sfide sia in campo sentimentale che nelle trattative di affari nel lavoro siate più accondiscendenti sagittario prosegue questo momento di costruzione lenta a tratti noioso ma in sostanza proficuo potrebbe nascere qualche incertezza su come orientare le vostre scelte se razionalmente come esige saturno o un po più idealisticamente come suggerisce l'aspetto di nettuno al vostro segno capricorno si appesantisce la fase astrale del momento con una opposizione di sole venere mercurio che toglie qualche energia e vi confonde le idee oltre a procurare un disagio sentimentale per fortuna oggi la luna armonica risolleva un po la situazione e vi offre emozioni addolcite acquario nervosi e con le percezioni emotive totalmente distorte oggi è la classica giornata nella quale meglio prendere tutto con filosofia senza fare un dramma di ciò che pare ostacolare il vostro cammino niente di grave è un passaggio ombroso che svanisce presto pesci si amplia il consenso del vostro quadro astrale la giornata appare davvero speciale dal punto di vista emotivo e amoroso un rilancio in grande stile di tutta la vostra capacità di amare bene anche il settore dei contatti del lavoro e una forma armonica generale che vi rende positivi buone stelle